ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di mito e misteri gta 4 oggi andremo a trattare il caso 13 la raffineria abbandonata allora in questo posto per chi non lo conoscesse non ha giocato a gta 4 è possibile fare anche una missione di pecorino infatti un po' questi posti dove stiamo facendo queste indagini sono luoghi dove sono svolte delle missioni secondo alcune segnalazioni dei giocatori che hanno giocato a gta 4 si dice che in questo posto sia possibile udire delle urla e delle voci delle persone che sono state uccise durante la missione la raffineria ovviamente dove gli ho fatto vedere si trova in questo luogo di qua e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che si sentite nel video. C'è stato una specie di rumore metallico. C'è una cosa che sbatteva. E anche quei passi ritardati strani. Non c'è più il nuovo. Ok, proseguiamo. La zona è abbastanza grande, quindi dobbiamo esplorare molto. La scuola che abbiamo un po' osservato. Se mi ferma perché capisco se ci sono dei rumori strani. Occhio, mi sono un po' spaventato. Erano queste fosse di fuoco che hanno fatto tanto rumore. Secondo me ci sono dei passi. C'è qualcosa di strano. E' un po' spaventato. 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 spaventato. E' un po' spaventato. E' un po' spaventato. 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 spaventato.